Prosegue la preparazione del Bari in vista del prossimo impegno in campionato domenica 22 settembre a Frosinone. Una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà per i biancorossi che storicamente non hanno mai espugnato lo stirpe. Per Andrea Oliveri, arrivato in estate in prestito dall'Atalanta e la sua prima conferenza stampa in biancorosso, sarà un match importante per dare continuità ai tre risultati utili collezionati dai galletti. Sarà una partita impegnativa anche perché Vivarini, dato che l'ho avuto l'anno scorso, lo conosco molto bene e esprime un calcio molto bello e anche difficile da affrontare. Però siamo sicuri di ciò che sappiamo fare noi, quindi andiamo lì tranquilli, ma comunque con molta fame, dato che abbiamo iniziato magari non nel migliore dei modi, ma penso che stiamo dimostrando ciò che valiamo. Il ruolo di esterno di centrocampo gli è stato cucito addosso da Gasperini, ora con Longo in panchina, Oliveri è chiamato a svolgere mansioni simili a quelle già sperimentate nell'Atalanta, con l'obiettivo di raggiungere traguardi importanti in biancorosso. Andremo in campo con l'atteggiamento giusto, senza dubbio. Penso che dimostreremo che questo Bari vale tanto e si riuscirà a prendere un bel posto quest'anno, riuscirà a raggiungere dei grandi obiettivi.